Onori al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri! ...internazionale Onorevole Emanuela Claudia del Re, accompagnata dai sottosegretari di Bagno di Stefano e Riccardo Antonio Mello, dal Segretario Generale del Dicastero, ambasciatrice Elisabetta Belloni. Siamo molto orgogliosi di tutti i carabinieri che servono presso le nostre strutture. Il Ministero degli Esteri è una delle reti diplomatico consolare e culturali più vaste nel mondo. Nella maggior parte di queste strutture noi ci avvaliamo del contributo dei carabinieri sia per la protezione degli edifici ma soprattutto per la sicurezza del personale sia del Ministero degli Esteri che delle altre istituzioni che lavorano presso le nostre strutture. Grazie.